si presenta bene apritura molto ampia del dritto ha segno anche con rovescio insomma ha già dato tocca anche il nastro grande accelerazione è stato anche un briciolo fortunato che si avastava eh questa è una pallacorta molto ben giocata però niente male fuori l'anno ancora qui trovi ed è vincente eh esagerata chissà può essere quel recupero arriva però niente male a questo punto sembrava avere un ormai pen questo è il primo punto a prescindere brava anche con questa soluzione è troppo tranquilla la lettone insomma se vuole vincere questa partita se la deve guadagnare lei ecco anche perché do la gran passante però dopo dov'è l'ha messa questa è rimasta in calma dove l'ha messa questa è rimasta in calma dove l'ha messa questa è rimasta in calma perfetta perfetta la discesa tanto parte bene è in campo ed è in campo anche questa è rimasta in calma è rimasta in calma per un momento salzata troppo contro smorzata di sevastò la risposta dovrebbe essere in campo è in campo e il passante vincente con l'attacco da parte di e basta il primo ancora il servizio alla destra che va benissimo una chance ha ottenuto il break il passante vincente di sevastò riga da parte di sevastò un po' di fortuna perché la palla subisce questo è il dritto ma è lo stesso discorso naturalmente anche su questa soluzione risposta vincente 40-15 prova anche un po' no insomma parlavamo di 5 game è così sto accelerando parecchio direi con questo dritto Dolaid che alla fine negli anni 70 è stata Chris Evert che lo ha diciamo che diciamo che col passante è un po' brava perché prima ha variato contro piede vincente doppio fallo mamma mia che pessimo game giocato da sevastò che la rovescio in avanzamento eis se la stava al centro beh insomma dove si di fila no no vola via la risposta di Dolaid insomma seri dica brava brava smorzata anche di sera stava adesso è arrivato Lide è vero torna indietro non si prende brava però ancora la combinazione servizio è calata ha concesso a Dolaid l'opportunità di rientrare nel match ma soprattutto ha concesso a Dolaid un set point ancora risposta vincente va di pretta Dolaid passa e qui non può far nulla perché il tocco della letta è in difficoltà è bello quel dritto ma che brava che è stata nell'alzare quella e se lo gioca nel modo migliore giocando ma a parte la prudezza della Dolaid e Is addirittura con la seconda quindi abbiamo nel nostro piccolo portato anche un po' di fortuna speriamo naturalmente che valga lo stesso discorso per Sara quindi adesso noi non sappiamo quale sarà la tua innovation bello quest'angolo ho trovato ma non capisco perché è avanzata recupero molto buono hai capito si stanno sfidando a colpa buona bello 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 beh stola palla break la perseva stola palla del doppio break bene a nulla questa risposta può colpire la burro indisturbata un giro passata mamma mia ma come è colpito male due volte non male non male 15 pari questo diritto questo diritto nastro che invece non crea e chiude al primo match point non c'è se c'è se va stovain